La SIR partecipa a questa competizione internazionale per la prima volta e riporta a casa un trofeo. Sì, siamo contenti, sicuramente poi queste amichevole si fanno, poi quando si gioca si vuole anche vincere. L'obiettivo però era, oltre a quello che cercare di vincere, ma era di giocare contro squadre forti di un altro campionato, di fare un bel viaggio tutti quanti insieme e di mettersi alla prova. Abbiamo fatto due belle partite contro due avversarie toste in Polonia a livello molto alto, quindi sono contento di come abbiamo giocato, sono contento che sono venute fuori cose da migliorare, quindi torniamo a casa con delle indicazioni in più per metterci a lavoro. La diagonale con Bentara ormai è confermata e consolidata, l'intesa con i nuovi attaccanti come sta andando? Io penso che con tutti quanti bisogna continuare a lavorare, bisogna sempre lavorare per migliorarsi, non per rimanere allo stesso punto di prima, quindi il nostro obiettivo è quello di continuare a migliorare con tutti quanti e sicuramente di cose di lavorare ce ne sono, sull'intesa pure, quindi ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo al Palabarton.